Era il 12 aprile del 2002 quando Monsignor Urso fu ordinato vescovo di Ragusa. A dieci anni dalla sua ordinazione la diocesi Iblea festeggia il proprio pastore con diverse iniziative e appuntamenti cominciati il 5 marzo scorso con un incontro con le comunità parrocchiali alla Golden Hall di Vittoria. Il 6, Monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Alba e presidente della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, ha tenuto un incontro a Ragusa presso il Teatro Don Bosco sulla chiesa e il suo pastore. Oggi invece una cerimonia solenne presso la cattedrale di San Giovanni Battista, un vescovo molto amato dalla comunità Iblea che ha voluto così festeggiare insieme a lui. In questa occasione il presidente della provincia, Franco Antoci, ha fatto pervenire un messaggio a Monsignor Urso per ricordare la lieta ricorrenza in cui lo ringrazia per la sapiente e fraterna guida spirituale della comunità Iblea. Ma il 2012 è un anno particolare per Monsignor Urso. Il 7 ottobre segna infatti anche il cinquantesimo anno della sua ordinazione sacerdotale. E' la legge fondamentale.